Cosa è che fate qua? Non so, non so, non so, non so, non so, non so, ma cos'è? Che cos'è? Cos'è il cibo che stai facendo? Giorgia, me lo stai ammattando? Amici, oggi sono molto contenta e sapete perché? Perché Luca dopo avermi regalato tutti questi splendidi occhieri a Soe Swarovski, lo dico perché ne ha bisogno, dopo più di un anno e mezzo che non ha fatto niente, ha deciso anche di regalarmi un massaggio, guardate, niente poco di meno che tibetano, da il beauty salon, Michi e Giù e allora ovviamente sono venuta al salone che si trova a Los Cristianos a pochissimi passi da Sant'Elmo per farmi questo bellissimo regalo, andiamo! Buongiorno, buongiorno, permesso! Vieni, vieni, vieni pure, come state? Bene, grazie, allora, io ho un buono, che gentilmente lo ho nato dal mio marito, per fare un massaggio tibetano. Ah, fantastico, cosa ne pensi? Non lo so, non l'ho mai provato. Ah, il regalo si è stato bravo, è stato bravo devo dire, però se il massaggio non va bene, poi lo picchio, lo picchio, lo picchio, non c'è problema, lui è responsabile di tutto. Chi me lo fa il massaggio? Io! Ok, poi dopo picchio anche lei, va bene, ecco, ci siamo. Sempre pronta per un buon massaggio. Ok, perfetto, passa selvaggia, tu devi sfogliare, questo mi fa migliorare un'oretta, più o meno. Molto bene. Lavoreremo sui meridiani perché noi lavoriamo sia la parte olistica che la parte fisica, quindi è un tibetano, è un massaggio che lavora sulla emozione, sulla corpo, sulle contratture e sul rilassare la tua mente. Quindi ti farà sicuramente tanto bene. E così dopo sto qui a dormire. Mi chieda, mi sto rilassando. Poi mi addormento, però se vieni tu, magari mi faccia tranquilla. Ok, perfetto. E' un misto tra un godimento e un po' di rilassamento. E' proprio bello, è bello. Ragazzi, ma sarà mai possibile fare un regalo a Selvaggia e sta via tre ore? Ma possibile? Va bene il massaggio, ma adesso voglio vedere cosa sta facendo qua, perché non è possibile. Cioè, andiamo a vedere cosa sta combinando, non è possibile, via da tre ore, ma sarà mai possibile? Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto a recuperare Selvaggia. Selvaggia? E' tre ore che è qua, non so io. Mi dovete aspettare ancora tre ore. Perché? Perché adesso lo mettiamo al laser, facciamo un bel laser. Anche il laser? In filazione, sì. Ah, eccoti qua. No, tranquilla, non preoccuparti, sono solo tre ore che sei via. Ma scusami, ma cosa vuoi? Ma vai a farti un giro che io devo farmi bella per l'amante? Sì, ma cos'è che... Quale amante, oh? Ma stai scherzando? Sì, è amante, non lo devi sapere. Eh, vabbè, vabbè, adesso cosa fai? Quanto tempo c'hai ancora? Eh, un altro... due, tre, quattro... Quanto? Cinque... Cinque... Vabbè, io ti lascio qua, eh, me ne vado. No, 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 perché ho un regalo per te. Un regalo per me? Sì, sì, adesso anche tu farei qualcosa, quindi stai qui, accomodati pure. Guarda, Michi, per favore, facciamo accomodare quest'uomo, dai. Cos'è che devo fare? Si rapisco, vieni Luca, vieni. No, per favore, io ho paura di queste cose. No, 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 com'è paura, stai scherzando? Paura, mi fai del male. Andiamo a fare la tavoletta di cioccolato. La tavoletta di cioccolato! Fantastico, e cosa facciamo? Spiegami. Facciamo il Body Up che è un trattamento per colpire la muscolatura mascolina. È vero? Sì, sì. E con che cosa mi fai questa roba qua? Questa qua sono delle elettrodi che si applicano sul corpo e ti fa una stimolazione elettromagnetica e colpisce la muscolatura. Cioè mi fai praticamente la tartaruga da Super Faigo. Esatto, esatto. Molto bene ragazzi, guardate qua che attrezzatura super tecnologica. Beh Michi, allora mi affido alle tue mani. Dai. Ma quindi fondamentalmente io che ho sempre fatto la celetta e anche più di una volta al mese, qui come funziona la situazione? Cioè se io lo faccio stavolta qui poi basta o no? No, assolutamente no. C'è sempre bisogno di varie sessioni. Ah, ok. Dipendendo dalla zona, in questo caso stiamo facendo la mezza gamba e dipendendo comunque dalla zona c'è un numero di sessioni. da cosa fare. Esattamente. Ma sento un pizzichino ogni tanto, non sempre, ma un pizzichino c'è. È normale? Sì, assolutamente sì, perché il pizzico vuol dire che stiamo bruciando la radice del pelo. Ma è proprio un minimo, è come se mi fungesse una zanzara. Esatto, come un piccolo aghetto, diciamo. Non devo ammazzare la macchina, non ti preoccupare, la zanzara invece la ammazzola. Sarebbe meglio che non rimango tutta la macchina. Eh sì, hai ragione, hai ragione. Cos'è che fate qua? Giorgia, me lo stai ammazzando? Che peccato. Quello di un benzina? Sì, a me piacciono quelli muscolosi. No, vabbè, sto scherzando, però, ragazzi, è una roba pazzesca, sembra di essere in palestra, sto facendo 75 domitari al minuto. Più o meno. Quasi. Vedi? Vedi? Tu che sei pigro e non vuoi mai andare in palestra, questi sono per te. Ma Giorgia, dimmi un attimo. Poi si possono mettere anche in tutte le altre parti del corpo, perché lui anche... No, non si mettono in altre parti del corpo. Non in quelle, non in quelle. No, 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 no. Però, cioè, guarda che gambini esili che hai, cioè, voglio dire... E cosa dovrei fare? Eh, tu zitto! Tu zitto! Che devo parlare con Giorgia per capire se si possono aumentare anche altre cose. Assolutamente sì, si possono andare in varie zone del corpo, come i pettorali, le braccia, le gambe, i gemelli. Sì. E quanto dura una sessione? Una sessione sulla mezz'oretta, più o meno. Perfetto. Allora, amore, mezz'ora lì, mezz'ora là, mezz'ora qua, io ti lascio qui per un'altra ora e mezza. Ma anche no! Ciao, amore! Tirami fuori di qui! Ciao! 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 Allora, ragazze, io mi sento veramente rigenerata. Sì, tu ti senti rigenerata, io un po' meno, però, eh. Oh, qua mi fa male tutti gli addominali. Questo è un problema tuo. Non mi... È normale che mi facciano male gli addominali? Assolutamente sì. Ah, molto bene! Mi senti per piacere, eh? Dai, cioè, adesso, ogni tanto, su... Ti ho fatto un bel regalo, stai zitta e prenditelo! Bellissimo! Eh, guarda che non è che ne devi fare una, eh, di sessione, devi fare un po' per... Appunto, sono già preoccupato, invece lei vedo che è felice, no? Mi ha visto soffrire, era felice, guarda, guarda che... Perché le donne... Lo sguardo della felicità venendo a soffrire l'uomo, come tutte le donne, eh? Assolutamente, assolutamente. Anche te, eh, lo so io. Se ti piace, fatti soffrire, io stai zitta. Eh, ragazzi, è pazzesco. Io ti ringrazio del trattamento, massaggio, laser, tutto quanto. E, eh, però voi fate anche... Sì, facciamo degli altri trattamenti selvaggi. Adesso te li faccio, te li faccio il foglietto perché tu possa portare per la casa. Ah, fantastico! La pulizia del viso. Facciamo, dice, depilazione. Facciamo l'ifu facciale che è un'antietà. Ah, anche la prassoterapia, ragazzi. Cioè, tante cose, ma tante, tante, ragazzi. Sì. Assolutamente. Troppe cose, io direi. Troppe, eh, qua io sono già preoccupato, eh. Allora. Vedi, vedi, vedi? Guarda, è come dicevo io prima, chiaramente se uno fa più di una sessione... Certo, ha un po' di sconto. Un po' di sconto. Un po' di sconto, capito? Certo, comunque noi, comunque già abbiamo degli ottimi prezzi perché ci piace poter trasmettere questa, questa benessere a tutti. Che tutti possano avere la possibilità di avvicinarsi a questo benessere, a questa... E si vede. Avete visto che donne, ragazzi? Altro che meme. No, no. Però ricordiamo, ovviamente, che il Beauty Sound Mickey e Joe si trova in Caglie, Finlandia, edificio Atlantico. Local A. B. B. Local B. Ha detto B. Ha specificato, giustamente perché lei vuole essere sicura che io torni qua per fare un altro trattamento e i miei belli radiominaletti che adesso non ci sono e magari un giorno ci saranno. Allora, allora, come ho detto prima, siamo vicini a Sant'Elmo. con chi dovesse venire qui e prendere questo bellissimo Depriana, se scordi, qui c'è scritto Local A, che loro hanno detto Local B. Allora? Vero, vero, vero. Si sono scostate. Eh, va bene, va bene. Cioè, si sono ingrandite. Molto bene, molto bene, ragazze. Allora, ragazze, perfetto. Prendete l'agenda, grazie. Prendete l'agenda. Grazie. Per busta e per salvagia. Per tutte le due. Niente, ormai sono finito. C'è niente da fare, ormai è finito. Io faccio tutto. È finita. Tutto, tutto. Sono rovinato, ragazzi. Non si preoccupare, me lo pago da sola. Sono rovinato, ragazzi. Sei proprio... Lei è bella felice, guarda. Io invece sono rovinato perché lo so già se non vengo qui a sudare. Vengo qui a sudare e a sudare. Ah, assolutamente, Luca, dai. Beh, però se no cosa vieni qua a fare, scusami. Allora, io direi che prendiamo un appuntamento. Appuntamento. Un tot di appuntamenti. Quindi, ragazze, ragazzi, perché ovviamente, come l'ho visto, c'è anche per gli uomini. Quindi, venite da Giorgia e Michela, due fantastiche persone che vi rimetteranno in sesto. Quindi, ci vediamo da Michi e Gior a Los Cristianos. Molto, ma molto bene. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.